Ho cambiato un po' la visione delle cose. Se disessi in passato, per esempio, mi capitava un'esperienza un po' negativa così, adesso ho un po' maturato la sensibilità di far humanizzare al meglio altre esperienze, anche quelle più negative che a me non mi sono piaciute, perché ogni esperienza ha un valore aggiunto alla nostra vita, tutte. Finisco con una frase che dice se guardiamo è possibile unire i puntini della nostra vita a guardarli in avanti, non solamente a guardarli indietro. Quindi anche se abbiamo percorso dei puntini, cioè dei tradizzi della vita anche più negativi, si è visto che bisogna passare per quelli che arrivano dove siamo ora. Quindi non agirare all'ostacolo, ma affrontare tutte le esperienze, sia negative che positive. Infatti ricordo di finire la frase che diceva Steve Jobs, che diceva stay angry, stay full, che significa siate affamati, siate fogli. Quindi affamati, curiosi di provare un'esperienza, e fogli perché dovete provarle tutte. E grazie a tutti voi da Cazzo Rodale.